La vostra attività nel nucleo antiveleno è molto particolare ed è particolarmente adatta a questo progetto? Sì, praticamente è partita già questa iniziativa con lo scorso LIFE, che è stato anche premiato a livello europeo come miglior LIFE tra tutti quelli che avevano concorso e questa caratteristica di avere formato il nucleo cinofilo antiveleno è proprio mirata nella parte relativa all'antibraconaggio. Quindi questo nucleo costituito attualmente da cinque cani che potrebbe essere anche poi ampliato ha fatto numerosi interventi sui territori della regione Piemonte e anche in altre regioni italiane dove è stato richiesto per la sua specializzazione ed è molto utile per l'individuazione delle escavelenate che purtroppo in questi ultimi anni sono aumentate anche come entità e infatti è importante anche nella human dimension continuare a lavorare sull'informazione proprio anche in merito a questa problematica che è emersa in questi anni. Ispettore Fissore, uno dei cani antiveleno è Mirtil, il nostro cane, il nostro collega di città metropolitana di Torino insieme al suo proprietario Geimonat. Quindi anche a Torino, come lei diceva, si fanno questi interventi. Cosa significa farlo in un territorio montano come il vostro o in una città come Torino? Ma l'attività del cane è praticamente identica perché per loro è un gioco il fatto di trovare queste esche che sono fra l'altro anche molto pericolose e va un plauso agli addestratori che continuano a mantenere efficienti i loro ausiliari perché come Mirtilla anche tutti gli altri cani hanno questa attività un po' estrema dal punto di vista del rischio e quindi devono essere sempre mantenuti efficienti da questo punto di vista. Per il resto, ripeto, per loro è un gioco, è un'attività ludica che sia svolta in montagna o in un altro posto e il rapporto con il conduttore è quello che dà soddisfazione al cane e nel momento in cui trova l'esca c'è sempre il premio, il bocconcino, le carezze e quindi anche se per noi è un aspetto diciamo drammatico quello di trovare un'esca avvelenata perché c'è un contesto di rischio verso il lupo ma non solo, anche per altri animali perché non dimentichiamo che in area urbana principalmente queste esche colpiscono animali domestici quindi cani di affezione, gatti, uccelli, cioè tutti gli animali che possono entrare in contatto con questi veleni perché poi sono tali. Non da ultimo anche il rischio per i bambini e le persone che frequentano le aree pubbliche e quindi i sindaci hanno anche chiesto l'intervento dei cani del nucleo antiveleno proprio per la bonifica di questi ambienti che possono essere anche soggetti di questa attività criminale definiamola per quello che è un'attività criminale assolutamente.